benvenuti benvenuti a tutti qui a Nova Feltria benvenuti a chi torna a trovarci no vedo già delle facce già conosciute negli anni scorsi e benvenuti invece chi per la prima volta viene nella nostra cittadina qui a Nova Feltria un saluto di cuore va a Brigida la direttrice della summer school la musica lirica ovviamente al maestro Valdofabbri all'Aldona e fra l'altro sono nostri cittadini onorari di questi siamo particolarmente orgogliosi per tutto quello che fanno che hanno fatto in questi anni e che faranno sicuramente nei prossimi anni per dare ancora più forza e vigore a questa iniziativa che è giunta quest'anno al ventiquattresimo anno no quindi ventesimo anno ventesimo anno e quindi insomma le cose stanno progredendo let's start by thanking Brigida but also Ubaldo Ubaldo and Aletona who run forci grazie a tutti i nostri amici non vivono in Nova Feltria ma hanno ottenuto la città ma hanno ottenuto la città in questa città in questa città in questa città in questa città grazie a tutti i nostri amici e a tutti i nostri amici e a tutti i nostri amici questo è il 20 anniversario di questo programma di Voci nel Montefeltro e il Montefeltro Festival vi auguro quindi un proficuo periodo di studio perché siete qui fondamentalmente per imparare il bel canto la dizione, la lirica però mi auguro sono sicuro insomma che passerete con noi una comunità accogliente e come sempre stata qui a Nova Feltria passerete anche delle belle giornate e quindi insomma rimarrà sicuramente nel cuore questa vostra esperienza sia di studio ma anche di vita qui insieme a tutti noi ok, we know, we are aware that you are here to study, to learn, to improve your Italian language to improve your diction and your singing but we are a very welcoming community here in Nova Feltria so we also hope that you are going to bring special memories back to your hometown because we are sure that you are going to learn a lot but you are going to also enjoy your stay a lot here thank you